Parlamentari abruzzesi riuniti per la questione delle province, per quelle che sono ancora i nodi. Si parla di cristallizzazione di una posizione a seguito del voto referendario. Credo che sia opportuno avviare una riflessione su quello che doveva essere il nuovo assetto istituzionale di questo Paese, anche alla luce del voto del referendum. Si era fatta una scelta diversa, quella di superare questo livello di governo. I cittadini hanno ritenuto che non fosse questa la strada da perseguire. E' evidente che anche a livello parlamentare e governativo bisognerà invertire la rotta. Le province, in Abruzzo ne abbiamo avuto con l'emergenza maltempo una dimostrazione plastica, hanno comunque una funzione importante e bisognerà ragionare in modo da ridare risorse utili a che si possa fare almeno l'ordinaria manutenzione. In Abruzzo abbiamo il problema anche della straordinaria manutenzione dopo gli ultimi eventi e quindi è evidente che noi siamo più interessati di altri a che questo livello di riflessione si produca in maniera veloce, efficace ed efficiente. Una volta ottenuta l'unità cercheremo anche con i presidenti delle province di trovare la strada più giusta. E' evidente che il momento della finanza pubblica non è un momento rosio, ma rispetto al momento non rosio della finanza pubblica dobbiamo trovare tutti gli strumenti affinché anche questo livello di governo torni ad essere considerato utile da quelli che sono poi i soggetti più importanti, cioè i cittadini fruitori dei servizi. Le richieste di fondi sono ovviamente giuste perché tutti noi vediamo la fine che sta facendo non solo la viabilità ma anche tutti i movimenti franosi abruzzesi. Il vero problema del governo è che ha tagliato in tutti questi anni questi fondi non togliendo le stesse competenze alle province. Quindi è un problema in mio intento governativo. Noi ci abbiamo provato sia in legge di stabilità sia negli altri decreti legge sui terremoti. Ci proveremo anche su questo decreto legge, ma purtroppo finché non si muoverà il governo, non si muoveranno i parlamentari della maggioranza, poco potrà essere fatto per l'Abruzzo.